Buongiorno a tutti, oggi vi propongo una partita settoriale 10 contro 10 più jolly con settori verticali. La squadra in fase di possesso deve avere almeno un giocatore per zona, sempre, questo per favorire il giusto scaglionamento in campo in fase di possesso, mentre la squadra che difende deve sempre muoversi in base al posizionamento della palla, quindi si può muovere liberamente nelle zone del campo. Il jolly è libero di muoversi dove vuole, gioca con la squadra in possesso per favorire la gestione del pallone, l'obiettivo chiaramente è fare gol. Preparazione è stata fatta su un campo di 80 metri in lunghezza, mentre per quanto riguarda l'ampiezza è stata fatta tutta. Varianti possono essere 3 tocchi per aumentare l'intensità dell'esercizio. E quali sono i temi per voi allenatori? Che è una partita settoriale dove, grazie ai settori, vogliamo lavorare sul corretto scaglionamento in campo in fase di possesso e quindi sulle giuste distanze da mantenere per allargare la squadra avversaria correttamente ed avere quindi più spazio e tempo per giocare. Io sono uno cadore a questi esercizi perché insegniamo ai giocatori facendoli divertire e giocare perché in fin conti è una partita. La divisione dei settori è come in figura, quindi è abbastanza intuibile. Questo esercizio è una progressione dell'esercizio proposto nell'ultimo video, quindi consiglio di farlo nella stessa seduta per ottenere risultati migliori. Se l'esercizio ti è piaciuto ti invito a lasciare un mi piace e un commento per farmi sapere il perché ed iscriverti al canale per rimanere aggiornato sui prossimi video. Grazie a tutti.